Nino Longobardi Apparenze è il titolo della mostra a cura di Achille Bonito Oliva in programma a Castel del Monte da Canosa di Puglia presso Palazzo Sinesi da ieri, dal 26 aprile al 30 ottobre 2017. La mostra si sviluppa in un percorso di oltre 20 opere distribuite tra esterni ed interni nei due livelli del Castello Federiciano. Il servizio di Marilena Pastore. La scultura di Nino Longobardi dialoga con i misteriosi spazi di Castel del Monte. Una mostra curata da Achille Bonito Oliva e voluta dal Polo Museale di Puglia in collaborazione con Nova Apulia. Oltre 20 opere esposte nel castello dell'imperatore Federico II di Svevia. La metamorfosi e il superamento dei limiti spaziali al centro della ricerca di Longobardi. Ad aprire il percorso artistico nel maniero un Cristo deposto dalla croce adagiato sul pavimento sotto il cielo ottagonale del castello. E ancora un omaggio a Federico II, l'opera Guteschlafen Federico, dove idealmente l'imperatore riposa su un letto posato su stratificazioni di oggetti proprio nel castello da lui più amato. La mostra è stata inaugurata lo scorso 26 aprile e durerà sino al prossimo 30 ottobre. Il lavoro si adegua a questa meraviglia, con grande rispetto, però voglio dire si adegua. Però allo stesso tempo bisogna guardarlo con rispetto ma anche con gioco, perché altrimenti ti sopraffa. Riporsi di fronte a queste cose con grande libertà e non chiedersi troppo. Perché non sono lavatrici, non sono elettrodomestici, direi che è quasi impossibile dare. No, io posso dare un... ma non lo faccio neanche. Una mia idea del lavoro, ma il lavoro non è quello, cioè il lavoro non si esaurisce. Anzi, voglio dire, è importante che sia così. Questa mostra conferma una mia lunga frequentazione con questo spazio. Io qui ho fatto negli anni scorsi alcune mostre molto significative, in cui è evidente la messa in luce di un cortocircuito tra una grande architettura del passato, che non è solo legata a una storia imperiale, ma anche a una storia spirituale. È uno spazio esotico ed esoterico. Longobarte che è un artista che ha una matrice anche, diciamo, legata alla cultura napoletana. Quindi uno ha lunga frequentazione con alcuni temi. Ecco che questo crea un felice cortocircuito e diventa, direi, lo scenario adatto per evidenziare i temi di cui, diciamo, è entrisa l'opera di Longobardi. Quindi, come ho detto anche in altri momenti, qui, in questo spazio, la morte risuscita. Infatti è proprio quello che si respira, questo contrasto continuo tra vita e morte. Un cortocircuito e quindi un conflitto felice, ma anche un armistizio per lo sguardo.